Ok, è andato. Allora, se fossi una verdura dove vorresti finire? In una zuppa, in una pizza, in un'insalata, in una ratatouille. Allora, la zuppa è bollente. Allora, su una pizza o in un'insalata? Allora, se vuoi essere una zucchina, devi soffrire, secondo me, e devi andare o nella ratatouille o nella zuppa. Allora, perché la zucchina non va in... Cioè, non lo so, la zucchina sulla pizza non penso di averla mai vista. Per questo, come si può essere bannati in questo canale? Su... dove? Su... su Twitch? Allora, su Twitch puoi essere bannato soltanto se scrivi parole bannabili. Per altre cose c'è soltanto il timeout. Per se spammi, se mandi link, eccetera, c'è il timeout. Ovviamente, se lo fai in modo ripetitivo e continuo, ti banno io. Però, spero che non sia questo il caso. Però, in generale, soltanto se mandi parole bannabili, quindi N, F, eccetera. Comunque, non lo so, raga, visto che fa caldo, voglio finire un'insalata, sinceramente. Pizza sulla... la zucchina non c'è. L'insalata so che la zucchina non c'è nell'insalata, però preferisco l'insalata. Ah, devo pure premere conferma. Mazza, oh. Quindi... In quale reparto il supermercato acquisti di più? E che cazzo ne so? Che so prodotti generali? Snack. Cibi surgelati, formaggi latticini. Boh, prodotti generali. Surgelati no, latticini nemmeno. Snack, boh, a parte per le Pringles, però, mazza. Cioè, non direi che il reparto che acquisto di più mi prendo un paio di scatole di Pringles e basta. No, prodotti generali, dai. Se fossi una verdura come ti defini... Questa parola qua, raga. Dai. Su cosa? Tenera, marcia, fresca. Beh, marcia no. Su cosa? Non lo so. Tenera, fresca. Ma una verdura marcia mi fa schifo. Su cosa? Direi che non è male. Tenera? Ma, oddio, no. Cioè, chi è una verdura tenera? Se è uno spinacio, bella per anche che è subito uno spinacio. Io per stare al caldo ho messo zuppa all'inizio, shit. No, comunque mi definisco una verdura fresca, dai. Solitamente la verdura la preferisci? Grigliata, fritta, al vapore cruda. Fritta no, però le zucchine fritte non sono male. Grigliata? Dio, sì, è buono, però dipende. Cioè, tipo, grigliata sono buoni i peperoni. Fritte sono buone le zucchine. Al vapore, broccoli, ste robe qua. Pure gli asparagi sono buoni. Cruda? Oddio, cruda sì. Cioè, cruda bocca, rote, ste robe qua, sì, crude, sono buone. Non lo so. Mettiamo al vapore, dai. Mettiamo al vapore. Mettiamo al vapore. Sono... Se è ancora 4 su 20. Oh, porco Dio. Vero, 4 su 20. Spicciamoci. Eh, non è colpa. Ci metto un sacco di ore a fa' sta roba. Questa, questi frutti è il tuo preferito? Banana, mela, ciliegia, fragola. Allora, mela è buona, però... No, banana è buona, però... Cioè, la banana sì, dai, è buona. Però qualcosa di più fresco... Cioè, questo penso che sono... E sono condizionato dal fatto che è estate. Quindi... Per quello. Però scelgo la fragola. Sono uno spinaccio anche io. Ma stai pure commentando, non rispondi e basta. No, devo commentare. Quando mangi maggiormente le verdure. A colazione direi di no. Pranzo no. Come spuntino no. A cena. Ti direi. A colazione no. Quelli tra questi ingredienti sono maggiormente in cucina. Basilico, rosmarino, noce... Basilico, rosmarino, noce e moscata. No, limone, assolutamente. Cioè, il limone lo metto pure nell'acqua, quindi... Quale tipo di sapore ti piace di più? Dolce, amaro, salato o speziato? Mazza. Tra speziato e salato? Brutto. No, salato, penso. Ogni giorno, quanto tempo detti chi è la cucina? Ma che cazzo ne so, boh. Boh, un'ora. Non lo so. Sono un pisello. Nice. Non lo so quanto tempo, boh. Che cazzo ne so? Non lo so. Ammettiamo. La pasta ci mette pieno 10 minuti a cuoce. La sera forse un po' di più. Boh, circa mezz'ora? Circa un'ora? Mettiamo circa un'ora, dai. No, dai, sono buoni, piselli. Tra quali... Tra questi? Qual è il tuo gusto gelato preferito? Non c'è nocciola? Porco Dio. Menta. Fragola. Vaniglia. No, vaniglia è buona. Oddio, però pure menta. Menta è vaniglia. Brutto. Ma... No, metto menta perché stiamo in estate. Metto menta. Io volevo la zucchina, eh, lo so. Anch'io voglio la zucchina. Che cazzo? Vediamo. Di solito che colore ti piace vestirti? C'è verde, rosso, giallo. Ma chi cazzo è che si veste di giallo o di rosso? Porca troia. Dov'è nero? Cioè, non c'è nero. Ma vaffanculo nel senso. Vabbè, metto blu che è quello che si avvicina di più a un colore scuro. Però nero grigio al massimo. Se fossi una verdura da quale personaggio famoso... Ma che cazzo vuol dire? Ma che personaggio famoso vorresti essere mangiato? Famiglia. Famiglia. Micchia. Personaggio famoso addirittura. Va bene, però. Mi farò un po' esagerato. Messo a confronto con Cristiano Ronaldo, Di Caprio e Tiziano Ferro. Leonardo Di Caprio, comunque, dai. Qual è la stagione preferita? Inverno. Inverno, non si commenta nemmeno. La tua cucina preferita? Pure questo. Le altre non le leggo nemmeno. Mi fanno schifo sicuramente. Tra queste verdure, qual è quella che ti piace meno? Sedano, rucola, ravanelli e asparagi? Mazza, tra ravanelli e sedano... Una bella guerra. Però, no, metterei il sedano. Il sedano mi sta sui coglioni. Quali tra questi cibi preferisci solitamente? Cibi leggeri, cibi spazzatura, cibi salati, cibi dolci. No, i dolci mi fanno schifo. Cibi spazzatura, no. Salati, sì. Leggeri salati. No, salati, dai. Pringles su salate. Famiglia. Vaffanculo, va. Qual è la tua festa preferita? Nessuna. Ah, grazie. Non ho feste preferite. Ti piace stare in forno? Mi invito a seguire una dieta sana. Molto. Mangio sano e faccio palestra. Non penso proprio. Faccio poca attenzione. Potrei fare di più. Non mangio quando voglio. Beh, mangio quando voglio, però mangio sano, nel senso. No, mi invito a una sicurezza di età sana, dai. Quello di questi programmi di TV sulla cucina è il tuo preferito? Master. Vabbè, Masterchef. Gli altri non li ho mai visti, quindi. Tra queste cose qual è... Qual è quella che conta di più nella vita? Amore, felicità, soldi, amicizia. Raga, ovviamente amicizia, felicità e amore. Però per il meme rispondo una cosa che non è vera. I soldi. Sono un peperone. Vabbè, ma le Pringles sono sane, oh. C'è stata paprika sopra. Bam, giga applauso. No, raga, però non sono una zucchina. Sono un peperone. Proprio come un peperone. Sei piccante. Il peperone non è piccante, rincoglionito. Aggiungi il tuo stile caratteristico a tutto ciò che ti piace fare e di cui fai parte. Sei sempre pronta? Sono diventato pure femmina? Sono una peperona? Sei sempre pronta a fare qualcosa di avvincente e a mantenere le cose interessanti? Ti distingui di sicuro nella vita.